sabato mattina più mi sento stanca e debole più mi sconcertano la forza e l'amore di speer che rimangono sempre a disposizione di tutti sono semplicemente spalordita che gli avanzino tante energie in giorni simili in ogni momento possiamo essere spediti in una baracca nel trente nei negozi di frutta e verdura sono appesi cartelli che vietano l'ingresso agli ebrei una persona normale ne ha abbastanza oggi lui invece riceve sei pazienti e passa ore intense con ciascuno di loro li apre e ne tira via il pus apre le sorgenti in cui dio si nasconde a molti uomini continua a lavorare con loro finché le acque scorrono nelle loro anime prosciugate le confessioni si ammucchiano sui tavolini quasi tutte finiscono con aiutami ti prego e lui c'è per ognuno e aiuta ieri sera ho letto di un prete era un intermediario tra dio e gli uomini le cose ordinarie non l'avevano potuto toccare e proprio per questo capiva così bene la pena di tutti gli esseri in divenire sabato sera mezzanotte e mezzo per umiliare qualcuno si deve essere in due colui che umilia e colui che è umiliato e soprattutto che si lascia umiliare se manca il secondo e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione questa evapora nell'aria restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni ma nessuna umiliazione e oppressione angosciose si deve insegnarlo agli ebrei stamattina pedalavo lungo lo stadion cade e mi godevo l'ampio cielo ai margini della città respiravo l'aria fresca non razionata dappertutto c'erano cartelli che ci vietano le strade per la campagna ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo tutto quanto non possono farci niente non possono veramente farci niente possono renderci la vita un po spiacevole possono privarci di qualche bene materiale o di un po di libertà di movimento ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento sbagliato col nostro sentirci perseguitati umiliati oppressi col nostro odio e con la nostra millanteria che maschera la paura certo che ogni tanto si può essere tristi e abbattuti per quel che ci fanno è umano è comprensibile che sia così e tuttavia siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli trovo bella la vita e mi sento libera i cieli si stendono dentro di me come sopra di me credo in dio negli uomini e oso dirlo senza falso pudore la vita è difficile sì ma non è grave dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio il resto allora verrà da sé e lavorare su se stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso se ognuno si sarà liberato dall'odio contro il prossimo di qualunque razza o di qualunque popolo se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso forse alla lunga in amore se non è chiedere troppo questa è l'unica soluzione possibile